Bella ragazzi, benvenuti, siamo nuovamente nel format di Conosciamo gli Youtubers Sì, oggi è il secondo episodio, ma perché? Perché ho detto finalmente torniamo, ho trovato qualche nuovo Youtubers da parlare E quindi ho detto ma buttiamocene giù un paio tutti insieme Perciò oggi andremo a parlare dello Youtubers dell'Hongamer Uno Youtuber che non è conosciutissimo, non ha milioni di iscritti Ma comunque che ha fatto dei numeri abbastanza ragguardevoli su Youtube Ma partirei subito dicendo che il suo canale è stato aperto il 13 marzo del 2015 Quindi è un canale molto più giovane degli altri che abbiamo visto fino ad adesso Il primo video è stato pubblicato nello stesso mese di apertura Però 24 giorni dopo, cioè il 27, scusate 14, cioè il 27 marzo del 2015 Ed era un trailer del canale, molto semplicemente Il suo canale ad oggi conta più di 562.000 iscritti E un totale di 364.000.000 di visualizzazioni Per 3.268 video pubblicati sul canale Quindi comunque ha fatto tanti tanti video Lui in Italia è al 422esimo posto per iscritti E al 145esimo per visualizzazioni Essendo un canale non molto grande Ovviamente i numeri non sono altissimi Ma comunque il video più visto Ha fatto più di 1.200.000 visualizzazioni Ed è un video di Slap the Fly insieme ai 2 players 1 console Il video con più like, beh, è lo stesso video Con quasi 25.000 pollici in su Che comunque non sono tantissimi Ma per gli iscritti che ha questo canale Sono più che ragionevoli Il suo canale non ha mai fatto Lui col suo canale Collaborazioni con youtubers piccoli Lui, essendo un grande amico Da veramente molti anni con SP Jockey È riuscito a fare delle collaborazioni Oltre che appunto con SP Jockey Anche con Lion I 2 players 1 console E Gabby Quindi le collaborazioni che ha fatto Sono sempre state con youtubers molto grandi Questo infatti lo ha un po' agevolato Diciamo, eh Passerei col dire che Benché lui non abbia tutti questi iscritti Comunque L'ultimo mese ne ha fatti Più di 8.000 iscritti E 11 milioni di visualizzazioni Il miglior mese per il suo canale Beh, per iscritti è stato a maggio di quest'anno Con 18k Mentre invece per le visualizzazioni Giugno di quest'anno sempre Cioè Con quasi 14,5 milioni di visualizzazioni Che sono numeri A parer mio Niente, niente male Comunque passerei a dire Che Il suo canale Per ogni video Ha una media Ovviamente non è una media molto alta Però per iscritti che è abbastanza alta Ha una media di 120.000 views a video Circa Proseguirei con E finirei Con i guadagni Secondo i miei calcoli Sempre vi ricordo Riguardanti solo le visualizzazioni totali Del suo canale Il suo canale ha fatto Circa 150.000 euro In totale Cioè Una media di 27.000 All'anno Cioè 2250 al mese Perciò Da quando ha aperto il canale In media The Long Gamer ha fatto 75 euro Al giorno Sono numeri Abbastanza alti Anche se non ha un canale Chissà quanto grande Ma Non posso essere sicuro Che siano quelli lì I veri numeri Ovviamente Qui purtroppo Non c'è neanche un social Perché The Long Gamer Non ha né un Instagram Né un TikTok Anche questo episodio Con il precedente Non è stato molto lungo Questo vi facilita La visione comunque Perché non è stato molto lungo Perché anche qui Non c'è stato molto da parlare Non c'erano libri Non c'erano canali secondari Perciò Mi spiace Non ho potuto farlo Più lungo di così Soprattutto Dato che è mattina Mi devo un attimino ancora Abituare No? Alla giornata E quindi sono un pochino Ancora così Infatti si sarà sentito Dalla mia voce Perciò Ci vediamo In un prossimo video A me non resta che dirvi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi